I due sandali In India i treni sono sempre molto affollati. Un giorno un passeggero che stava addirittura seduto sul tetto di un vagone perse uno dei suoi sandali che cadde al suolo. Subito l'uomo prese il secondo sandalo e lo gettò lungo la strada. Uno dei passeggeri che erano seduti accanto a lui se ne stupì. E allora l'uomo gli spiegò Non mi serve a nulla un sandalo solo e se qualcuno trovasse quello che è caduto non saprebbe che farsene nemmeno lui. Tanto vale che li trovi tutti e due.